Si sono accesi oggi riflettori sulla 17esima edizione di ExpoBit, il Salone Internazionale della Innovazione Tecnologica. Ad inaugurare l'evento presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania è stato il presidente di ExpoBit Maurizio Ninfa, insieme al sindaco di Catania Raffaele Stancanelli. Catania deve essere orgogliosa del fatto che l'ExpoBit, che è diventato un punto di riferimento forte per l'innovazione tecnologica, non più soltanto a livello cittadino ma a livello internazionale, è un vando di Catania. Io ogni anno sono venuto, anche quando non ero sindaco della città, perché ritengo che attraverso l'innovazione tecnologica, in un momento di grave crisi della nostra comunità nazionale, si possono percorrere nuove strade per far progredire la nostra società. Quattro giorni all'insegna della tecnologia, rivolti agli operatori del settore ITC, un calendario denso di appuntamenti con contenuti di alto livello, rivolti alle imprese, utenti e pubbliche amministrazioni, per confrontarsi sugli ultimi trend in corso, condividere i migliori casi di successo e prendere contatti con nuovi buyer. Quest'anno, oltre al riconoscimento di evento internazionale conferito dal governo, ci saranno nuove aree espositive, l'Expo Medicina, i percorsi innovativi, Sud Web Expo e il Digital Print. Questo è l'unico evento da Roma in giù, è testimoniato soprattutto dalla presenza di tanti segmenti, tra i quali il terzo salone dell'innovazione in sanità, realizzato in accordo con il professor Scavone e Loxati, ma ci sono tantissime altre novità, che è quella dell'area del Web Expo, che è molto interessante perché sono tutte interessate giornalistiche, quotidiani online. Quindi diventa importante perché i media si avvicinano all'informazione, si avvicinano ad Expo Bit e quindi io penso che ci sono tantissime novità che sono interessanti sia per i detti lavori sia per quanto riguarda il pubblico e quindi spero che per la dicesima edizione saranno ancora numerose le tecnologie che faremo vedere qui ad Expo Bit.